musica salve ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video di RoboZombie94 bentornati con Halo Comeback's Evolved Anniversary bene, allora, mettiamoci seduti oppla mi piace sempre iniziare video da impiadi per poi mettermi seduti a giocare e sta nano oh, madafucca già insieme che ci dobbiamo sparare, sto nonzetto BAM! BAM! corto un paio di gr... allora ce l'avamo lasciati più o meno qua quindi dov'è qua? E' qua! orri che ti come il massimo mori basti che... con il fatto che... ok, adesso che c'è la luce è meglio credo ok c'ho un anetto da ste parti, lo sento oh, madafucca ci troviamo sotto la nave i Covenants usano un ascensore gravitazionale per spostare truppe e rifornimenti tra la nave e la supermiglia dobbiamo sendergli un attuato nella zona di carico e salire sulla nave con quell'ascensore BOOM! BITCH! HATCHOT! ci vorrebbe qua una... ecco, il terzo è andato però l'avrò colpito al linguine oh, basta, 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 basta di rimanere sterta la missione anche se ormai anche mia nonna sa che sono qui BAM! cazzo... interessante attraverso... oh, sparano troppo perfetto usciamo nooo oh, merda ricevuto Cortana ecco 4-1-9 in arrivo allarme navi nemiche in avvicinamento dai 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 fuoco è tutta per te il prossimo bastardello a morire chi sarà? non stiamo venendo già anche dalla nave merda ah addosione non fai ah 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 eh amico che sto sognino ah 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 Ok, già abbiamo fatto Sì, cominciamo, infatti anch'io, ad avere poche tacche di vita Un cacciatore! Cazzo Uuuuh, bastardo Un altro cacciatore Non fanno mai da soli questa Non va ricordata Ok, carica Non è libera, nessuna presenta nemica Marenz, occupate l'ascensore, pronti all'imbarco Venite Cortana, eco 419, ascensore raggiunto, attendiamo rinforzi Agli ordini, Cortana Tenete duro, signori Passo e chiudo Quando saremo dentro potrò connettermi all'interfaccia neurale del capitano Probabilmente sarà nella prigione o lì vicino Per cui sarà più facile cercare Eco 419 in arrivo, scommerare la zona Eh, cazzo, non ho tutto il tempo Guardate, un Mark V Sì, sono un Mark V, adesso salite, per favore Perfetto, e si sale A che piano va, signore? Ho il piano successivo, grazie Io stronzo per ultimo? Eh Posso capire che con l'armatura penso c'è tipo 500 kg Però, che cazzo Ho una buona connessione con l'interfaccia del capitano Nessuna difesa rilevata No, no, c'è come Contatti dappertutto Non ci sono come Mangia questo WTF, sono ucciso da una granata Ok, ripartiremo da qui Tutto calmo No E che ce la facciamo? Gli prendo da dietro Perfetto Prima di aver sgumbrato il mare Dalla lunga gittata Preferivo Vivere l'allunga Può essere ovunque Nessuno da questa parte Sono sicura Ma stai venendo Sì Sento errotti i colpi Dai Abbiamo uno dei nostri Mi sono dappertutto Ce n'è uno solo Io sono all'antica In stile avanza D'oltranza Meglio restare in movimento Usiamo quella porta In effetti basta Rimanere nello stesso punto Andiamo avanti Soldatoni È chiusa signore Non posso superarla Di qui non si passa Potremmo usare i passaggi laterali Per girarci intorno Non c'è abbastanza spazio Là dentro saremmo dei bersagli facili Se vediamo il modo di fare il giro E aprire dall'interno Possiamo mantenere questa posizione Capo Capo Vediamo se trovo il modo Di aprire questa porta Che ball Che ball Che ball Adoro quando urlano Interessante Aspettate che carico Troppi colpi Caricatevi scudi Ricaricatevi Dovremo leggermente Aumentare la sensibilità Di qua Di qua Asseguiamo lo stronzetto Qui a destra Uuuuh Madaffacca Perfetto Abbiamo anche trovato Un medie Forza venite fuori E datemi una mano Brutti stronzi Mai dare le spalle Alle porte Mai Vogliono mettere il manuale Del soldato principiante Porta centrale Urlate Fatevi sentire Da mezzo mondo No Qui a sinistra A destra Piena di soldatoni No 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 scopo fantastico ok ci sono a volte penso di andare troppo forte e non c'è a perdermi lì per strada ok esplode tutto salta in aria tutto quanto odio quando gli esplode lo scudo nella mia faccia compratelo altro kit di soccorso interessante sono qui sopra sono anche sopra le nostre teste mettetevi al riparo stronzi come sei circondato carino però quando parlo in quella vocina non come gli ultimi alo che non si capisce che cazzo dicono da un senso più di realismo ma vuoi mettere con le vocine divertenti in stile elio cavolo che mi... dai tipo io stronzo dovrei farlo di nuovo cazzo mamma mia qualcuno ha parlato in inglese l'ho sentito ma da fu... fàc... ho preso però daiii cazzo... tutto di merda no niente la mira non è dalla mia dove sono andati tutti i miei soldati Tipo spariti Checkpoint Ho preso un sovrascudo Figata Non cazzo faccio ad ammazzare anche quelli l'assuto Dovrei salire Dove si sale qua? Oh oh Alcune è ancora qua? Che devi non morire soldatini? Dove si sale qua? Cerco di contestarsi alla rete dei colonos Per trovare un codice d'apertura della porta Ci sto provando Vorrei vedere te a craccare un codice Oh Derf Fucker E quest'altro non era già morto Cazzo di ridio Allora, la ramo di un'altra testa è l'ultimo C'è key point Saltella di qua, saltella di là Non c'è granata per farli spaventare Mi dispiace per te Grazie Compra dei bersagli che te odievo Il capo è morto, scappiamo Quanto è dolce Tanto schiattano Oh La curiosità viene spontanea Oh wow Che cazzo Oh shit Due Pure Vediamoci Credo di averne fatto fuori nemmeno uno Almeno uno l'ho fatto fuori Dov'è l'altro? È là Tutti e due fuori Ci sono La porta è aperta Tutti dentro, veloci Tutti dentro Io Solo io Cortana Solo io ci sono Intanto abbiamo ripreso lì In sovrascudo Bene Bene C'è un mother fucker invisibile L'urlo più bello Della mia fottuta vita Quindi un altro po' Cazzo Devo cercare di liberare dai nemici Tutto Iolo Mi uno l'ho preso Vi faccio saltare in aria nani di merda Dai dai andiamo andiamo Su 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 una volta Nostro obiettivo E ritrovare capitano Forza 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 Avanzate mentre sparate Non rimanete fermi E la vedo io Cerca di non morire Ok 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 Siamo ad un livello anche superiore Quanto sei brutto Via Vai col tango Ok Comprateli Comprateli Come brucia Come brucia Perché entrate e sparate Ma che cazzo Ma perché entrano e sparano Prima sparano E poi fanno le domande Tipico dei soldati Grazie 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 Oh Sparate a quel coso Non lo fate avanzare Dove cazzo è andato E' lì Quella stronza Non voglio La taglata del plasma Ho ucciso Per sbaglio Un soldato Una persona Malvagia Ok Ok Se non erano saltati con la prima Dopo la seconda Erano praticamente fottuti Ok Ci siamo Sono da solo Carino Con umore Zitto Fitto Qua Di qua A tutto per destra Per sinistra Fuoco d'oltranza E faccio fuori Sto stronzetto Che potrebbe Prendermi Da dietro Al tradimento Ma è venire Mi incontro Quando sto Pensi che non ti avevo visto So So che Sono dietro Le due colonne Perfetto Che abbiamo salvato Che abbiamo salvato qualcosa Qualcuno E qualcun cosa Sì 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 Siamo collegati alla loro rete In base ai dati presenti nella rete L'anello ha un profondo significato religioso Se capisco bene, credono che Halo Sia una specie di arma Dotata di potere inimmaginabile Allora è vero I Covenant dicevano che chi riesce a controllare Halo Controllerà il destino dell'universo Interessante Ora capisco Ho intercettato dei messaggi relativi a una squadra dei Covenant Alla ricerca di una sala controllo Pensavo cercassero il ponte comando di un incrociatore Che ho danneggiato durante la battaglia Ma evidentemente cercavano la sala controllo di Halo Pessima notizia Se Halo è un'arma e i Covenant riescono ad averne il controllo La useranno contro di noi E spazzeranno via la razza umana Capo, Cortana Ho una nuova missione per voi Dobbiamo trovare la sala controllo di Halo prima di loro Maris Muoviamoci Sta zitti e seguimi Signore Ok Quest'altro seguito Lo vedremo in un prossimo video ragazzi Torno all'hangar degli shuttle Bla 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 Intanto aspetta un attimo Sono arrivati Arrivate la compagnia Non farteli scappare No Sento Vuoi prendere qualche altro rockol Perché continuare a spararlo Ok va bene Comunque Dicevo Custodio finisce qua Aspettate che sto pronto Casomai qualcuno Dovesse venire Non per ancora le palle Allora Noi ci rivediamo Settimana prossima Con Halo Dal vostro caro RoboZoom È tutto E Ciao ciao ragazzi Ciao ciao